6 ottobre 1552 Nasce a Macerata Matteo Ricci, gesuita, cartografo ed esploratore. Nel 1582 Ricci salpa per la Cina, sbarcando a Macau. Qui approfondisce lo studio della lingua e della cultura cinese e contribuisce alla diffusione di questa in Occidente. Teologo e letterato, ottiene dall'imperatore Mandarino l'autorizzazione a fondare una chiesa a spese dell'erario. Primo anello di congiunzione fra la cultura europea rinascimentale e quella cinese è tra i pochi stranieri a figurare nell'Enciclopedia Nazionale della Cina. Muore nel 1610. Il suo corpo riceve il privilegio imperiale di un terreno di sepoltura nella capitale. La chiesa fondata da Matteo Ricci diventa la più grande chiesa cattolica della Cina e riuscirà a sopravvivere anche alla rivoluzione culturale maoista.